Paolo Guzzanti ruba per qualche minuto la scena al seminario sull'urbanistica calabresi organizzato da Forza Italia al Castello Svevo di Cosenza per annunciare di essere stato licenziato in tronco dalla carica di direttore responsabile del quotidiano Cronache delle Calabrie, proprio per aver accettato di partecipare alla tavola rotonda di Matrici Azzurre al fianco di Marcello Fiori, Mario Occhiuto e degli altri big del partito berlusconiano. Non è un pesce d'aprile, ma l'epilogo di una esperienza cominciata nello scorso autunno, la cartina di tornasole della crisi in cui si dibatte una parte dell'editoria calabrese, che a torto ritiene di poter pilotare i giornalisti a proprio piacimento. E la partecipazione a questo convegno di Forza Italia che l'ha portata al licenziamento? Senza nominare Forza Italia, ma nominando Occhiuto sì. Credo che ci sia anche stato il desiderio del Presidente della Regione di levarmi i siti di torno per la questione, credo, della sanità, degli aeroporti. Il Presidente al quale non è stato possibile mai avvicinarsi. Ho cercato di spiegare che i giornalisti fanno di mestiere questo, fanno interviste, fanno domande, non pubblicano solo il comunicato, ma vanno oltre. Come può un editore dire che lui mi ha licenziato, benché mi debba quattro stipendi che non mi ha mai dato, per poter con i soldi che non mi dà pagare dei giornalisti che non ha mai pagato.